Allora Juk, 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 se vuoi fare il premio devi iscriverti al canale, lasciare like, attivare la campanella e devi iscrivervi al link Scrivi il tuo link e io ti mando l'amitizia Sei live 13 live? Sì, aspettano a 2 euro Ma che c'è? 13 live, ma quando? Ma dove li vedi? 16, sono 16 18 No Entrate, entrate e lasciate like Mamma Venture live Ma avete letto che cosa era scritto alle 16 e 16 secondi Juk? Come, come vedi, come puoi vedere, c'è molta gente interessante Rega, questo qua qualcuno non è possibile R-S-N-Davide Ma, va bravo Il mio R-S-N-Davide Va bravo Il mio ID è L-S-N-Davide Benvenuto nei R-S-N 23 live Ma quando mai? No Noi, è gente che vuole entrare negli RSN No, è gente che vuole entrare negli.. negli... negli R-S-N Uh... RSN Eh... RSN Dico, iscriviti se mi senti No, non ti sento, mamma cazzo N-I-S-A-G-A-G-A-G-A-G-A-G-A-G-A-G-A-G-A-G-A-G-A-G-A-G-A... No, non ti sento, mamma cazzo addio addio amici addio noi ci dobbiamo lasciare